benvenuti a tutti in questo nuovo video vi farò vedere come scaricare musica da youtube in maniera semplice e senza andare nei siti in applicazioni strane e piene di pubblicità basta semplicemente avere un account su telegram per chi non dovesse saperlo telegram è un concorrente di whatsapp è un servizio di messaggistica simile che permette anche di installare una specie di applicazione chiamate bot per prima cosa bisogna andare nel video youtube che ci interessa possiamo andare all'applicazione youtube fare condividi e copia o andare dal browser nel sito di youtube e copiare l'indirizzo del video poi una volta su telegram andate a cercare o comunque trovate il link in descrizione il bot di youtube che è questo qui una volta trovato lo fate avviare a me dice via via perché l'ho già avviato scegliete la lingua c'è disponibile inglese italiano e altre lingue e andate semplicemente a copiare il link del video e a fare invio e in questo momento vedete la canzone è già stata scaricata cliccando in basso un piccolino ve lo farò vedere più avanti si scarica la canzone io in questo caso l'ho già scaricata per testarla andiamo a cercare un altro link per scaricarlo un'altra ok facciamo sempre la copia dell'indirizzo e andiamo a copiare il nostro indirizzo nella chat e la inviamo vedete in basso sotto la freccetta del play è uscita una nuova icona clicchiamo lì e ci scarica musica è un po difficile perché proprio piccolina infatti a me sta parte nella musica ok se vogliamo salvarla nel telefono e averla in samsung music dobbiamo fare salva nella nella musica e vedete adesso ce l'abbiamo qui nella nostra applicazione per leggere la musica questo è tutto se ti sono stato utile lascia un like e iscriviti al mio canale